Senza apporre le bandine nel cestino Il suo alberello adesso va via al berillo Dopodichè deve completare il giro di numero 10 Non può arrestare la macchina nell'ultimo tratto Mentre la deve fermare oltre il presostato E in un minuto adesso all'1.10 dovrebbe completare Il giro di numero 12 Il giro di numero 12 Il giro di numero 12 Il giro di numero 12